E' nata leggendo i grandi classici e secondo me lascia solo in questo modo, leggendo grandissimi scrittori. Poi mi piace anche molto la montagna, non perché sono qua, ma sono figlio degli appennini anch'io del nord. Mi piacciono molto i luoghi oscuri, tipo i boschi, queste cose qua. La visione periferica è una visione quasi sempre artificiosa. Chi vive una realtà alternativa lui non la vive da periferico, ma la vive in modo centrale. Quindi è una costruzione che gli altri ti impongono, quella di periferia. Comunque devi essere al centro delle cose che fai.